Ok, un leone, orso grigli, un mostro, orso bruno, faccia arrabbiata, orso nero, Hans! Eh, un mostro senza speranza! Il più grosso errore della tua vita! E non sapeva baciare nemmeno! Un cattivo! C'eravamo quasi. Bene Olaf, sei il prossimo. Bene. È molto più facile ora che so leggere. Sfida Lampo. Maschi contro femmine. Bene, sono pronto, sono pronto, vai! Unicorno, gelato, castello, guerciola, deiera, topo! Oh, Elsa! Non vale se Olaf cambia forma.